un saluto agli amici di medico snack allora ragazzi con questo video beh voglio annunciarvi i miei 10.000 follower sul profilo ufficiale instagram come potete vedere mi trovo all'inno splendida città innevata della provincia di sondrio e proprio qui che ho raggiunto questi 10.000 follower per farò qualche piccolo video di festeggiamento che poi andrà caricato sul canale youtube seguitemi subito dopo la sigla iscriviti al canale allora amici di medico secco con questo video voglio portarvi anche un recap dei di come ho iniziato proprio sulla pagina instagram quindi partirò dal primo post in assoluto e vi farò vedere tutti quei post che ho messo su instagram che hanno segnato man mano il percorso quindi tenetevi forte a parte il soggetto di qualche foto allora amici di medico snack ok a parte il soggetto di questa foto questo è il primo post assoluto che ho pubblicato sul profilo mitico snack di instagram beh devo dire che rivedere questo post dopo qualche anno ovvero dello 15 gennaio 2016 beh si fa venire in mente certi ricordi come vi ho detto tralasciando il soggetto della foto qui era proprio il primo post e stavo cercando un po di capire come funzionasse instagram se volete andare a questo post qua in basso in descrizione allora amici di medico secco come ho detto prima alle mie spalle la splendida città nevata di Livigno provincia di songio e mi ritrovo qui dal dicembre 2017 ovvero dopo un anno ci sono ritornato qui in questa splendida città e proprio qui voglio farvi vedere un altro post che ha segnato un atto dei miei piccoli percorsi qui sulla pagina instagram allora amici di medico snake ecco qua questo è il post che ho pubblicato l'anno scorso più o meno di questi dati ovvero il 13 dicembre 2017 e questo è un blog che ho girato con il collega di quando siamo venuti qui sopra a Livigno e credetemi dietro a quel blog poi dietro al blog che trovate qua linkato da qualche parte nel video oppure qua in basso nella descrizione beh le avventure non le ho riportate ma ho riportato tutti quei paesaggi metici della grandissima Livigno e diciamo qualche piccola disavventura che abbiamo subito e questo post aveva raggiunto 19 like dopo la pubblicazione del video e dopo un anno mi ritrovo nuovamente qua a Livigno e infatti eccola e se volete vedere questo post trovate il link qua in basso in descrizione e intanto vi faccio rivedere la mitica Livigno Livigno Un altro posto relativo a quei periodi febbraio-marzo dell'anno scorso è questo qua proprio il posto dove ho conosciuto Francesco Sniaulin alias Snugol esattamente il 13 marzo 2018 quindi devo dire che è stato veramente un bel ricordo e soprattutto un'emozione unica averlo conosciuto e credetemi un ragazzo che come lo vedete nei video così è nella vita reale quel posto aveva raggiunto 33 like e devo dire che ne ero veramente soddisfatto e se volete trovare questo posto sempre in descrizione trovate il link relativo che vi permetterà di visitarlo Allora amici di Medico Snake questo è un altro dei post che avevo pubblicato qui sulla mia pagina Instagram un posto che immortalava Gesù Adolomonaco di cui un altro video recensione di cui stimo tantissimo e che ho conosciuto esattamente proprio in quel periodo qui l'ho immortalato perché stavo nel veicolo lavorativo avevo connesso il mio dispositivo al Dolby del veicolo e mi stavo guardando una sua video recensione e questo post risale al 10 marzo 2018 esattamente un anno fa Allora amici di Medico Snake con questo video sto facendo un recap di tutti quei post messi su Instagram del periodo febbraio-marzo dell'anno scorso e sono tutti quei post che diciamo in un certo senso hanno iniziato a farmi segnare il percorso qui su Instagram vi faccio vedere qualche altro post, qualche altro piccolo paesaggio e poi direi di chiudere il video perché ho fatto già troppo quindi ragazzi veramente grazie ancora tanto per i 10.000 follower su Instagram Amici di Medico Snake ecco il posto di chiusura di questo video ed è un posto pubblicato esattamente quest'anno ovvero il 7 febbraio 2019 lo stesso periodo dell'anno scorso dove ho ripreso alcuni post di questo periodo allora questo è un posto dove riprende il mio carissimo OnePlus 6 la cover rossa che gli avevo comprato le OnePlus Ballets e questo posto aveva raggiunto ben 242 like ovvero ha raggiunto quindi veramente grazie a tutti per i like lasciati sotto i miei ultimi post e grazie a tutti, veramente a tutti i 10.000 follower che sono arrivati qui a Limigno e anche di questo posto trovate il link qua in basso nella descrizione allora Amici di Medico Snake io questo video lo finisco qua con questo video vi ho portato un po' i post che hanno segnato qui un attimino che alzo la visuale ok che hanno segnato il percorso qui su Instagram quindi veramente grazie a tutti i 10.000 follower che abbiamo raggiunto sulla pagina tutti i link ai relativi post che vi ho fatto vedere durante il video li trovate qua in basso in descrizione e se questo video vi è piaciuto vi raccomando lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se non l'avete ancora fatto ve lo ricordo la mia mitica animazione di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto ve lo ripeto condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram qua in basso chiocciola miticosnake ve lo ricordo sia l'animazione ma trovate il link anche qua in basso in descrizione quindi veramente grazie a tutti i 10.000 follower che abbiamo raggiunto stamattina e noi già lo sapete ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale YouTube ciao